Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Lutto nel mondo del cinema Ivano Marescotti è morto nel pomeriggio di oggi, domenica 26 marzo, all'ospedale civile di Ravenna, al termine di una lunga malattia. Oginario di Villanova di Bagnacavallo in Romagna, aveva 77 anni, compiuti lo scorso 4 febbraio. Lascia la moglie Erika e la figlia Iliade. A febbraio di un anno fa Marescotti, in un'intervista al Corriere, aveva ripercorso la sua carriera che diceva essere iniziata per caso. Non solo iniziata per caso, ma pure molto in ritardo. Il debutto al cinema risale al 1989, in una piccola parte nel film La Cintura. Poi aveva incontrato Silvio Soldini e aveva partecipato al film L'Aria Serena dell'Ovest. La sua è stata una carriera ricca e longeva, con circa 130 lavori sia in Italia che all'estero, tra fiction e film, fra TV e cinema. Incredibile è stata la sua capacità di calarsi in personaggi anche molto diversi fra loro, tra cui il leghista padre della ragazza che ha una relazione con Ciacco Zolloni nel film Cado dalle nubi. Nel 2022 si era ritirato dalle scene per dedicarsi all'insegnamento.